Musica Eeeh, salve tutti i piccoli disonesti e disonesti, io sono Disonverrocus, bentornati nel mio canale Oggi siamo tornati, anzi benvenuti su la Bad Wars di Minecraft Io Minecraft non è che è un gioco che mi piace tantissimo Però ragazzi, vabbè, ci giocavo, quindi vabbè, lo portiamo Sono in compagnia di uno che invece nel suo canale porta a Bizzeffe Minecraft Ovviamente il signor Nick Zambo, che è qui davanti Ciao a tutti Eccolo qua Anche se il nome non serve a questo, ma... Niente, vi invito ragazzi a iscriversi ai nostri canali, a tutti e due Lasciare un like sotto questo video E a iscriversi anche alla pagina Instagram di tutti e due E della pagina Instagram della crew, della nostra crew, del gruppo nostro Esatto Quindi vi invito su Instagram e vi invito su tutti i social E quelli che se non siete il mio canale vi invito che sono attivo anche su Twitter ora Quindi ragazzi, niente, cerchiamo una battaglia Io invece su tutti i social Su tutti i social, cosa ti mancra? Niente Ti mancraft Sì, ok, viene nella WV7 Ho appena sistemato un problema di internet provider che finalmente ha la connessione un po' più... un po' più cazzuta E finalmente, raga E niente, il... mi emetteva che ero già in Inghilterra Adesso abbiamo sistemato Sì, vieni sulla 7 Sulla 7? Ok, eravamo sulla 7 però la 7 è cazzuta Eh, aspetta Team... Sssegno team Rosso, rosso Team rosso Oh, bello, siamo anche con gli stiti rosso Andiamo Ma va... Ciao, bello, come sai? Ok, mi ritiro Mi sa che moriremo È la prima volta che c'è una Bad Wars Sarà tipo... Io sono sopra un bastone E non ho paura di usarla Ok Sì E cos'è, com'è che funziona? Try Titan Shop Ok, qua c'è il coso Spoon dell'argilla La, il ferro La, l'argilla What the fuck Ok, qua c'è il letto Questo è il nostro bellissimo Ecco, ma non possiamo dormerci Dov'è il spinner dell'argilla? Ah, là È quello del ferro Quanto cosa per potenziarli? Non costa niente per potenziarli Perché non devi potenziarli Perfetto Wow, sto per cadere Eh, io non so cosa puoi comprare Aspetta un attimo Titan Shop Devi essere Titan o King Per utilizzare questo Shop Ah Eh, volevi te usarlo Volevi Guarda che facile Non so L'ascoltano Ah Andiamo al centro Oh Gianni, 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 Gianni Ok 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 Ok, devo prendere qualcosa Ho fatto uccisere un altro Ho ucciso due Sono un killer professionista Stanno correndo come deficienti Ma siamo seri Oh merda What the fuck C'è gente che sta arrivando gente Ok, io prendo il letto Ciao C'è gente che sta cercando di scappare Sto andando all'indietro Ok Allora Mi serve del porno Niente What Cosa Eh Armatura Questa, questa Vorremmo assaltare il nemico Forza No Ok Mi piace la patata No Ehi qua parte Clash Parte Clash Parte Clash A caso Andiamo al centro Andiamo al centro Eh Fammi fermare Non è una buona scusa Non è una buona scusa C'è il casino Ci hanno a profino gli archisti qua Moriremo male Io torno indietro Ma io direi anche Di andare nell'attacco Ma sì Arcazzo duro senza futuro Andiamo al centro In blu Ah Mi sono bloccato sulla testa Oh ma guarda Che t'attento No Bisogna sistemare intorno al ponte Oh Blindiamo tutta la isola Che cazzo facciamo Totoro Ho già finito Ok Lo torno indietro Con un po' di cibo Lo stiamo facendo Da forti Dintorno Eh sì Ovvio C'è anche l'altro Che la sta facendo Come Si vede che È utile Invece Della Guarda Guarda Abbiamo degli arcieri Pronti a combattere Per la giustizia Dell'umanità E della patata Cosa Ho trovato un po' d'oro Grande Torna indietro Undici d'oro Grande torna indietro Siamo i re del mondo Noi siamo No dai lì La spada Con una filetezza E contro il colpo Fallo subito Oh c'è un blu qua What the fuck C'è un blu C'è un blu Che cazzo è C'è un blu Dov'è C'è un blu E' qua sopra E' qua sopra Tim What the fuck Non ho fatto vedere C'è stato io Oh guarda Guarda che roba Che cos' Ho fatto le torri Senza volerlo Ma che cazzo Che cazzo ho fatto Mi piaceremo Una bella besticchetta Oh Io prendo un blocco Fortunato No cazzo Sei caduto Prendiamo tutti i blocchi Fortunati Oh è bello Che mi stavo Scusando Che cazzo Quanto è che il corso Di bocchi fortunati Ti sei preso Non ci credo No No mi serve Acqua Acqua Eh cazzo Mangia 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 E non posso mangiare Ho vinto il cibo Piero Dov'è via Ho l'arc Io Sì ma Hanno bloccato passaggio Eh Ma il nostro Il nostro qua Sto facendo Un tunnel C'è anche il paraculo C'è non c'è C'è un gioco Si chiama paraculo Quello che hai ritrovato te Oh cazzo Sono i blocchi di base Sono i blocchi di base Aiuto 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 Cosa Sono i blocchi di base Sono i blocchi di base Siamo con tutti Quanti ce ne sono di rossi là Zero Merda Erano in tre Hanno inciso prima te Eh hanno inciso prima me Erano in tre Ma cazzo 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 Siamo sopravvivere Bene Questa skywalk Si è finita di merda Eh no dai Ehm Sei rimasto solo te I rossi I blu stanno tornando al centro Non ti consiglio Hanno preso un casino di oro Ah fuck Sono solo io Eh si Porca putt Quattro blu e un rosso A meno che Non scappi per tredici minuti Dov'è che sei? Coo Stanno arrivando da te Bene E' finita questa bellissima skywalk Eh no Ehm Ti rivedremo in un prossimo episodio Se lo volete Una skywalk Una eggwalk Anche Se riusciamo a fare Anche la skywalk Se riusciamo a fare Il terzo Nostro Compagno Di battaglia Ma adesso vedremo O se no Dovremo fare Da soli conto Perché non è così difficile La skywalk Niente ragazzi Se il video di viaggio Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale E iscrivetevi ai canali Della crew Ehm A tutti i nostri A tutti i miei social E tutti i social Di il signor Nick Zambon Che lo trovate come nome Non dico il nome Nicola Zambon Ehm Niente ragazzi Ehm Al prossimo video Ciao 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 c'è 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 Grazie a tutti.